Ciao ragazzi a Canale Bellavichers, come state? Spero tutto bene. Allora, niente, abbiamo visto la partita Pisa-Bari. Il Bari espugna anche il campo di Pisa per 2-1. Si proietta in solitario al terzo posto in classifica con 60 punti. Rimane agganciato al Genoa, da cui è distaccato soltanto da 6 punti. E mette in campo una prestazione importante e incredibile. Vincere sul campo del Pisa non è mai semplice per nessuno. Il Pisa perde punti importanti e mette un po' in discussione anche i play-off, visto che c'è il Palermo a 44 punti in agguato. Il Bari adesso ha 7 punti di distacco dal quarto posto, quindi un grandissimo campionato da parte del Bari. I 6 punti che ci distaccano dal Genoa sono frutto soprattutto della partita persa in casa malamente col Genoa. Partita che il Bari non meritava di perdere. Però abbiamo il ritorno nell'ultima giornata. Sappiamo che si giocherà Genoa-Bari. Ottimo tenere il fiato sul collo sulla seconda classifica. Che qualora sbagliasse una partita avrebbe il Bari ancora più vicino. Pensando soprattutto che ci giochiamo l'ultima partita fuori casa a Genoa, proprio contro il Genoa. Quindi complimenti a tutto il Bari, al Presidente, al Minister Mignani, a tutti quelli che lavorano lì, ai medici, ai dottori, ai magazzinieri, ai società, ai dirigenti, perché davvero hanno fatto un grandissimo lavoro. Allora ragazzi, sulla vittoria del Bari a Pisa oggi. Il Bari ha dimostrato da subito di essere più forte del Pisa. Il Bari più forte del Pisa si vedeva più squadra, più forte, più concentrata, più determinata. E fondamentalmente ci siamo mangiati due gol davanti al portiere nei primi 10-15 minuti. Uno di questi due gol è stato sbagliato a causa di un intervento su Chedira da Rosso, che Dira davanti al portiere di Nagy, che ha fatto un intervento da Rosso. Poi il Bari si è scoperto e in una ripartenza ha preso il rigore contro, 11 contro 10, su un'ingenuità di Puccino. Il Bari non è una squadra ingenua, non difficilmente compie dell'ingenuità. In questo no, Puccino, scusatemi, Mazzotta sulla sinistra. Mazzotta perde una palla, poi per recuperarla dà il rigore all'avversario. Dà il rigore all'avversario, Torregrossa va sul dischetto, fa un po' di bizze, perché prima deve tirare, poi si tira indietro. Spiazza il portiere, 1-0 per il Pisa. Il Bari continua a fare il suo gioco, continua a mantenere la sua personalità. Ha avuto il controllo del gioco per tutta la gara. A maggior ragione che poi fossimo 11 contro 10. E Moracchioli poi trova uno splendido assist per uno splendido colpo di testa di Esposito a fine primo tempo. 1-1. Nella ripresa il Bari tende a controllare la partita, stare dentro la partita, con la possibilità, la chance di andare in vantaggio. Situazione che si presenta a fine gara, al novantesimo, quando c'è un braccio teso così di un giocatore del Pisa. Un rigore netto che Antenucci realizza, un rigore tirato splendidamente da Mirko Antenucci all'incrocio imparabile 2-1 per il Bari. Mi meraviglio che qualcuno del Pisa si sia lamentato di quel rigore, visto che il braccio ragazzi era così, teso. Un braccio teso così, quindi il rigore è proprio netto, è enorme per il Bari. E così consolida la terza posizione in classifica. Quello che volevo dire è che Mignani, ancora una volta devo fare il suo elogio, perché parte con una formazione coraggiosa, giovane, perché schiera Esposito e Moracchiori dal primo. Sappiamo che Foloruscio ha avuto un problemino fisico prima della gara, non ha potuto partecipare, quindi schiera un 4-3-3 con i tre di centrocampo Benedetti-Maita-Bellomo e Moracchiori prima partita da titolare con Esposito al centro e che dirà. Devo dire che Moracchiori veniva da un gol e due assist, oggi mette un altro assist pazzesco e Moracchiori fa una gara incredibile, fa una gara incredibile per qualità, per controllo palla, per visione di gioco, per assist, per tutto ciò che ha prodotto in fase avanzata, non fa mai cose banali, ogni volta che prende la palla scardina un po' le difese avversarie, non sai mai cosa puoi aspettarti, procura molti gialli e danni degli avversari, perché non possono fare altro che fargli fallo per fermarlo. Devo dire che l'unica un po' pecca di Moracchiori è che davanti a portire 3-1 aveva la palla a lui, si è mangiato il gol, poteva darla e in questi casi in Serie B, nelle ultime partite di campionato non si possono sbagliare certe azioni del genere, quindi questo è un po' una punta di attenzione da fare. Poi devo dire molto bene Bellomo, ha fatto anche delle giocate incredibili a centrocampo, pirouette, visioni di gioco, determinazione, capacità, skill tecniche, è piaciuto moltissimo a Esposito, a parte il gran gol che ha fatto di testa bellissimo, ma Esposito è tecnico, prende anche lui i falli, procura anche lui i gialli, sono due bei giocatori, Moracchioli e Esposito, soprattutto per la loro giovane età e per le capacità tecniche che hanno, monumentale di Cesare sempre dietro e Mazzotto ha avuto con l'ingenuità sul rigore, insomma Mazzotto sono un po' di gare che un po' non rulla, che Dira pure, sempre importante tenerlo in campo, perché è entrato credo in la metà dei 50 corretti al Bari, in 16 reti e 5 assist, quindi 21 partecipazioni al gol, perché Dira, anche se è un po' troppo marcato, non riesce a esprimersi al meglio, non ha avuto molte palle giocabili, a parte quella palla nel primo tempo su cui si è procurato il rosso, che dire, è stata una bella partita, il Pisa è una bella squadra, è una squadra che gioca al calcio, ben allenata da D'Angelo, non è stata una partita molto fallosa, di quelle un po' scorbutiche, è una bella partita, il Pisa se l'è giocata dalle sue capacità, però non ha impensierito la porta di Caprile, dopo naturalmente l'espulsione del loro centrale, che ha un po' condizionato la gara, ma la condiziona perché il centrale fa un intervento su che Dira, che sta davanti al portiere, ha nulla il gol ma pigli il rosso, quindi non venitemi a commentare il solito Bari, perché tutto ciò che ottiene in Bari è meritato, è il fallo da rigore, è col braccio teso così, è netto. E niente ragazzi, questo è un po' il commento a caldo, ma anche un po' a freddo, visto che sono passati un po' di minuti dalla fine della partita. Niente, sono felicissimo per questa vittoria fuori casa, che sta iniziando a diventare normale per i Bari, e questa è la bella notizia, che questa prestazione, questa coesione di gruppo, questa self-confidence, questa sicurezza in se stessi, sta diventando davvero il marchio di fabbrica, di questo Bari di Mignani, che in questo modo consolida ancora di più la classifica, e insomma, a centrocampo anche Maita ha girato molto bene, anche se è un po' stanco, siamo senza Maiello e Foloruscio, che sono due uomini importanti, ma comunque andiamo a vincere fuori casa. Mi dispiace per tutti i detrattori o i tiratori dei piedi, che vedevano la possibilità oggi che il Bari perdesse punti a Pisa, non sono stati accontentati, farebbero bene a guardare e a tifare le loro squadre, e devo dire anche una cosa, anche il pari oggi andava bene a Pisa. Mi seguite? Anche il pari oggi sarebbe andato bene a Pisa, perché avremmo preso un punto sulla quarta, visto che il secondo posto è difficile, però sempre mettere pressione sugli avversari fa sempre bene, che nel calcio non si sa mai, una palla è un episodio, non si sa mai. Mi seguite? Anche ieri Genova a Cittadella, Cittadella è una squadra tosta, è passata di una rete, però poi hanno avuto anche loro un'espulsione del Cittadella, hanno finito la gara 10 contro 11, ma hanno avuto l'espulsione nel primo tempo, quindi niente è scontato nel calcio. Mi seguite? Anche il pari oggi andava bene, è molto meglio la vittoria, tutto si è meritata, Bari più forte del Pisa, Bari che ha messo in chiaro le cose, Bari che ha avuto un approccio alla gara molto, molto meglio del Pisa, ha messo in chiaro le cose sul campo, su chi comandava il gioco, su chi comandava il possesso palla, su chi voleva portare la partita a casa, da subito, quindi il risultato è meritato ed è giusto rispetto ai valori visti in campo. Tutto qua ragazzi, forza Bari sempre, daglie, sono felice di questa vittoria, fatemi sapere cosa ne pensate, un pollicione se è piaciuto il video e alla prossima da Bellavichers.